salve a tutti i fratelli e sorelle benvenuti nel nostro nuovo appuntamento di messaggi e profezie di oggi primo di agosto 2019 sia lodato gesù cristo sempre sia fatta la sua santa divina volontà dio vi benedica e ave maria fratelli e sorelle benvenuti nel nuovo nostro appuntamento e sia lodato nostro signore gesù cristo come vedete dalla miniatura del video abbiamo messo profezia san nilo come anche nella locandina ultimi tempi e avete visto nella miniatura che c'è il demonio con l'anticristo e dall'altra parte c'è come avete visto ovviamente vladimir luxuria esponente dei gay ovviamente trans eccetera eccetera e asia argento anche lei esponente e difensore ovviamente di questi di queste sotterfuggi diciamo anti anti cristiani cattolici contro ovviamente la santa chiesa e a favore ovviamente di tutta la massoneria che esiste nel mondo come ben sapete quindi personaggi veramente che non amano cristo ma vanno contro ovviamente andiamo a vedere oggi proprio la profezia di san nilo che è dell'intorno all'incirca intorno all'anno 1000 e andiamo a vedere questo messaggio di profezia dice questo dopo l'anno 1900 verso la metà del ventesimo secolo la gente di quel tempo diventerà irriconoscibile quando il tempo per l'avvento dell'anticristo si avvicinerà la mente della gente crescerà obnubilata dalle passioni carnali e il disonore e l'anarchia cresceranno più forti allora il mondo diventerà irriconoscibile l'aspetto della gente cambierà e diventerà impossibile distinguere gli uomini dalle donne a causa della loro sputeratezza nel vestire e nell'acconciarsi fino a qui cari fratelli e sorelle vediamo che è tutto così come si sta già verificando voglio dire fratelli e sorelle penso che c'è poco da aggiungere voglio dire di questo questo veramente si sta realizzando è donne che sembrano uomini uomini che sembrano donne perché non vogliono stare ed essere uomini ed essere donne ma vogliono fare le donne e le uomini cioè praticamente donne che vogliono diventare maschi maschi che vogliono diventare femmine femmine che non sa che cosa vogliono diventare cioè proprio una cosa che va contro quello che dice dio fratelli e sorelle e in effetti è proprio questo fratelli e sorelli quindi questo è sicuro quindi donne vestite da uomini e uomini vestiti da donne andiamo avanti questa gente sarà crudele sarà salvaggia come gli animali a causa delle tentazioni dell'anticristo e in effetti è così fratelli e sorelle non vi sarà più nessun rispetto per i genitori ed anziani l'amore scomparirà e i pastori cristiani vescovi e i preti diventeranno uomini vani completamente fallaci nel distinguere la concezione del bene e del male anche questo si è rispettato ovviamente nelle profezie perché oggigiorno i genitori vengono messi da un angolo come gli anziani fratelli e sorelle l'amore scomparirà ed è vero guardate l'aborto quando c'è infatti dice la questa gente sarà crudele e selvaggia come gli animali i pastori cristiani cattolici in realtà vescovi e preti diventeranno uomini vani e completamente fallaci nel distinguere la concezione del bene o del male non tutti ovviamente ma una determinate parte fa questo pensa che non riescono più perché non pregano fratelli e sorelle perché non si fidano più di dio non ci credono più e quindi questo avviene in questi tempi i costumi la morale e le tradizioni dei cristiani della chiesa cambieranno quindi ascoltate bene in questi tempi i costumi la morale le tradizioni dei cristiani della chiesa cambieranno l'agenda abbandonerà la modestia e ogni dissipazione regnerà la falsità e l'avidità raggiungeranno grandi proporzioni vi saranno sventute per quelli che sventure per quelli che accumulano tesori quindi aumento dei furti eccetera eccetera della criminalità questo è ovvio però non è che riguarda solo questo ma c'è proprio un'avidità di chi vuole accumulare queste cose perché non c'è più l'amore verso il prossimo e c'è l'odio e quindi che cose succedono aumentando l'odio aumentano anche queste cose aumento dei furti della criminalità eccetera eccetera la concupiscenza la lussuria l'adulterio l'omosessualità le calunnie gli omicidi gli oschi traffici domineranno nella società specchio di oggi fratelli e sorelle in quel tempo futuro a causa del potere di tali grandi crimini e licenziosità la gente sarà privata della grazia dello spirito santo che essi hanno ricevuto nel sacco il santo battesimo e vivranno con il rimorso le chiese di dio saranno private del timore di dio e dei pi pastori e sventure vi saranno per i cristiani rimasti nel mondo di quel tempo quindi vedete cala il timore di dio fratelli e sorelle e quindi che cosa succede cristiani che credono in dio saranno perseguitati fondamentalmente l'anticristo conferirà pura saggezza depravata agli uomini infelici così che scopriranno il modo di fare una conversazione con gli altri uomini da un all'altro della terra quindi ci sarà una tecnologia forse non credo solo del cellulare immagino io qui ma penso nuove nuove tecnologie ovviamente che potrebbero andare a fare cose del genere fratelli e sorelle poi chi lo sa questo vediamo come già già il telefono fratelli e sorelle o internet è già questo se uno ci pensa già lo fa questo tipo di discorso fratelli e sorelle e andiamo avanti con il messaggio in quei tempi gli uomini voleranno nell'aria come gli uccelli e discenderanno nel fondo del mare come i pesci sappiamo che in questi tempi si vola con l'aereo e si scende nelle diciamo nelle profondità del mare con i sommergibili fratelli e sorelle allora il buon dio vedrà la caduta della razza umana ed accorcerà i giorni per merito di quei pochi che si sono salvati perché il nemico di dio vuole condurre perfino gli eletti nella tentazione se ciò gli sarà possibile allora la spada del castigo improvvisamente apparirà c'è poco da aggiungere fratelli e sorelle il dio interverrà quindi una profezia che fa riflettere sui giorni nostri fratelli e sorelle intanto preghiamo 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 come vuole la vergine e sia rodato sempre nostro signore gesù cristo dio vi benedica sempre sia rodato nostro signore gesù sia fatta la sua santa e divina volontà gloria a dio ave maria se volete se potete seguiteci in questo piccolo canale dedicato al signore iscrivendovi con la campanella se volete se volete se potete diffondere della parola di dio e ovviamente la verità di cristo e quindi questi video messaggi e se volete se potete restate con noi che vi faremo vedere diciamo vi daremo indicazione se volete sulle prossime puntate che faremo ovviamente in giornata e nei prossimi giorni dio vi benedica sempre sia rodato nostro signore gesù cristo sia fatta la sua santa volontà ave maria santa giornata